Si possono aggiungere o modificare i dati relativi al personale impiegato nella ricerca sempre dal menu a tendina Gestione Database. Cliccando sull'apposito comando Persone verrà aperta la finestra gestionale. Nel settore Gestione, Squadre e Personale sono comprese le funzioni di gestione del personale, formazione delle squadre e assegnazione delle aree alle squadre. Per aggiungere un nuovo componente all'organico del personale di ricerca, è sufficiente cliccare sul tasto Nuovo sotto la voce Persone presenti. Verrà aperta una finestra nella quale si dovranno inserire tutti i dati in possesso relativi alle persone da aggiungere. L'applicativo riconosce e salva ogni tipo di carattere. Inseriamo un nome ed un cognome a titolo di esempio e salviamo all'interno del nostro database.